buongiorno ragazzi allora oggi insieme proveremo a cercare appunto di capire come andava svolto l'esercizio che vi avevo lasciato allora il testo era il seguente avevamo tre tabelle all'interno del nostro database la tabella reparti le cui colonne sono codice reparto e nome reparto e avevamo le database io qui vi ho fatto un esempio solitamente ricordatevi che voi al compito o anche all'esame non vi ritroverete queste tabelle bensì solamente queste scritte all'interno degli elenchi puntati abbiamo anche la tabella prodotti in cui c'è il codice del prodotto che è un numerino la descrizione che ci indica che tipo di prodotto si tratta il prezzo e poi il codice di riparto a fa riferimento il prodotto quindi notate già che c'è una chiave esterna in prodotti che si lega appunto alla tabella dei reparti infine abbiamo una tabella vendite con le colonne che sono la colonna del numero numero di vendita la prima la seconda la terza e così via la data in cui è stata effettuata la vendita la quantità che in quella vendita è stata una quantità diciamo di prodotti che è stata venduta per quella vendita e la tipologia di prodotto che si sta vendendo la prima ad esempio è una vendita fatta il 3 gennaio 2019 in cui sono stati venduti 25 prodotti il cui codice prodotto è 1 ovvero 25 filoni di pane ok allora il testo diceva ci faceva ci chiedeva appunto le seguenti interrogazioni partiamo dalla prima in cui ci chiede l'elenco dei prodotti in cui il prezzo è maggiore di 50 euro tornando un attimo indietro i prezzi cui prodotti è maggiore di 50 euro notiamo subito che ad esempio c'è la trave che costa 56 euro e quindi in realtà dobbiamo andare a cercare di capire quali sono questi prodotti che appunto costano più di 50 euro allora vediamo come si affrontano queste query questa è la query che ci chiedeva quindi l'elenco dei prodotti con prezzo maggiore di 50 euro e innanzitutto ci viene la cosa che vi chiedo è quali tabelle ci servono per poter rispondere a questa query ci chiede innanzitutto l'elenco dei prodotti quindi sicuramente ci servirà la tabella dei prodotti poi ci chiede i prodotti che hanno prezzo maggiore di 50 euro ma se ci ricordiamo la tabella all'interno della tabella prodotti c'è proprio la colonna prezzo quindi in realtà noi abbiamo appunto bisogno del prezzo e dei prodotti ma tutto è all'interno di una sola tabella ricordiamoci che se per rispondere a una query abbiamo che i dati si trovano all'interno di una tabella non ci sono quindi join da fare la seconda domanda che io vi chiedo di rispondere ma ci sono delle condizioni di cui devo tener conto in effetti qui la condizione c'è ed è quella per cui il prezzo deve essere maggiore di 50 euro cioè non vado a prendermi tutti i prodotti ma solo quelli che hanno un prezzo maggiore di 50 euro per cui se c'è una se c'è appunto una condizione che di cui devo tenere traccia devo sicuramente andare a fare una selezione perché dovrò selezionare solamente le righe della tabella il cui prezzo è maggiore di 50 euro quali colonne quindi l'ultima domanda a cui dovrete rispondere è quali colonne devo avere alla fine nella tabella risultante in realtà il testo non mi specifica quali colonne vuole far visualizzare alla fine in quanto mi chiede genericamente l'elenco dei prodotti quindi quello che faccio è tranquillamente diciamo mostrare tutte le colonne senza dover a fare una proiezione allora andiamo a vedere come si comporta quindi questa query 1 parte sicuramente abbiamo detto la tabella prodotti in cui c'è anche il prezzo e agendo su questa tabella vado a selezionarmi solamente le righe in cui il prezzo è maggiore di 50 euro come si fa questo in algebra relazionale beh vado appunto a fare una selezione con l'operatore sigma sulla tabella prodotti che è la tabella di partenza e scrivendo la condizione su cui vado a fare la selezione che sta appunto scritta qui sotto in cui quindi prezzo deve essere maggiore di 50 prodotti costosi che cos'è invece prodotti costosi è il nome della tabella risultante andiamo adesso a interrogarci e cercare di rispondere alla query 2 in cui invece qui ci chiedeva le vendite che hanno un numero identificativo maggiore o uguale a 4 stesse domande di prima quali tabelle mi servono per rispondere a tale query beh le tabelle che mi servono per rispondere a tale query e la tabella vendite quindi se abbiamo a che fare con la tabella solamente una tabella in quanto vedete il numero identificativo della vendita sta all'interno della tabella vendite non dovrò fare una join quali sono le condizioni di cui devo tener conto beh la condizione c'è scritto devo avere numero identificativo maggiore o uguale a 4 quindi voglio prendere solamente vedete questa porzione di tabella in cui abbiamo solamente le vendite che hanno numero di vendita maggiore oppure uguale a 4 vedete c'è quella da 4 a 8 tutto ciò quindi come si fa si fa anche qui tramite un'altra selezione la selezione viene fatta anche qui vedete sulla tabella vendite quindi selezione sigma della tabella vendite la cui condizione che il numero sia maggiore o uguale a 4 e vendite 4 è il nome della tabella risultante alla fine della mia query le colonne che voglio vedere nella tabella risultante possono essere tranquillamente tutte sia numero sia data sia quantità sia codice prodotto quindi non vado a fare neanche una proiezione vediamo la query 3 la query 3 ci dice invece l'elenco dei prodotti del reparto panetteria quali tabelle mi servono qui per rispondere a tale query beh notiamo che cosa che vogliamo l'elenco dei prodotti che sta sicuramente all'interno della tabella prodotti ma voglio quelli il cui reparto si chiama panetteria e il nome del reparto sta nella tabella reparti per cui ho bisogno di due tabelle se ho bisogno di due tabelle quello che ottengo è che devo fare per forza una join per poter unire le due tabelle di partenza quali sono le condizioni di cui devo tener conto beh se ci facciamo caso il reparto di cui che devo tener conto è un reparto specifico ed è il reparto panetteria quindi il reparto deve essere panetteria e è la nostra condizione che appunto devo prendere in considerazione quali colonne deve avere la tabella risultante anche qui sono le informazioni dei prodotti quindi mi va bene andare a prendere solo le colonne della tabella prodotti ma procediamo con ordine inizia essere una query un pochino più complessa rispetto alle altre due che abbiamo fatto in precedenza e la cosa migliore è cominciare a fare se ci sono le selezioni in quanto le selezioni mi permettono di fare un'operazione ad esempio di questo tipo qui c'è una selezione ed è quella di andare a selezionare tra tutti i reparti quello che ha il nome reparto uguale a panetteria per cui voglio fare una cosa di questo tipo ed è utile farlo prima di fare la nostra join che già abbiamo previsto in quanto la tabella reparti vedete sta l'abbiamo proprio ridotta nel numero di righe quindi prima operazione da fare è questa la selezione della tabella reparti il cui nome reparto è panetteria e la tabella risultante dopo aver fatto la selezione la vado a chiamare appunto panetteria sempre per fare la query 3 adesso quindi andiamo a fare la join abbiamo detto dobbiamo fare la join tra chi? tra i prodotti e andiamo a fare la join non più con la tabella reparti completa ma con la nuova tabella panetteria che abbiamo ottenuto fare questa join quindi è sicuramente più veloce rispetto a fare la join tra i prodotti e tutti i reparti che invece c'erano prima nella tabella reparti come faccio la join? faccio la join sulla base del codice reparto quando il codice reparto della tabella prodotti è uguale al codice reparto della tabella panetteria unisco la riga di prodotti con la riga della tabella panetteria come se ci fate caso quindi le volte in cui i codici reparti sono uguali sono in questo caso e poi nel caso della seconda riga della tabella prodotti con la riga della tabella panetteria ed è quello che otteniamo appunto qui in fondo vedete come c'è il filone adesso sappiamo che il filone sta nel reparto il cui nome è panetteria stessa cosa appunto per la baguette concludiamo quindi adesso andando invece ad operare sulle colonne e quindi andiamo a mostrare solamente le colonne che ci interessano partendo da la tabella completa prodotti panetteria che abbiamo creato grazie alla join quello che si ottiene è che possiamo fare una proiezione e quindi la proiezione viene fatta sulla tabella prodotti panetteria andando a proiettare la tabella su queste tre colonne codice prodotto descrizione e prezzo e vedete quindi che semplicemente ho ridotto la mia tabella nel numero di colonne ed sono le colonne che volevo far visualizzare alla fine della mia query quindi l'elenco dei prodotti del reparto panetteria si ottiene cioè il risultato finale otteniamo questo qua vediamo come nel reparto panetteria ci sono il filone e la baguette concludiamo questa breve video lezione andando a mostrare quella che è la soluzione completa si tratta quindi di quello che avreste dovuto fare voi su carta e dire quindi che innanzitutto selezionate dalla tabella reparti la tabella il cui nome reparto è panetteria dopodiché fate la join quindi l'unione della tabella prodotti con la tabella panetteria basandovi sul codice reparto ottenendo così la tabella prodotti panetteria in cui andate a fare la proiezione quindi a ridurre il numero di colonne della tabella risultante in quanto vi interessano solamente il codice prodotto la descrizione e il prezzo e quindi la tabella risultato